ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi vi faccio vedere tre idee siccome non ce la faccio a fare tutti i giorni video di uncinetto un giorno sia un giorno è già bello impegnativo vi faccio vedere invece tre idee per profumare la casa adesso siamo tutti in casa e quindi tre idee naturali per profumare la casa due sono prodotti quindi da acquistare mentre invece una è un'idea che potete fare proprio a costo zero allora prima o prima di tutto una cosa che io uso da tantissimi anni è la carta aromatica di eritrea e allora vi racconto un pochettino come ho conosciuto questa carta aromatica di eritrea io non mi ricordo veramente bene come l'ho conosciuta ma tantissimi anni che la uso e la vendevo io tanti anni fa avevo una libreria sono stata una libraia per tanti anni sono stata tante cose sono un'infermiera diplomata e quindi sono stata un'infermiera sono stata una libraia adesso lavoro online quindi io ho fatto tante cose ho studiato tante cose imparato tante cose perché mio motto è impara l'arte metti la da parte poi magari usala anche e appunto ero una libraia e vendevo questa carta aromatica di eritrea non ricordo come l'ho scoperta ma è un prodotto meraviglioso intanto è un prodotto completamente italiano quindi a dispetto del nome la fa questa casa casa nuova farmaceutici di piacenza e appunto se l'ha inventata adesso vi faccio vedere un farmacista ecco qui la storia da nel 1927 e praticamente è una carta che si brucia e a base di essenze naturali sapete che qualche tempo fa ci sono stati degli studi sui gli incensi e di queste cose che si bruciano che spesso e diffondono nell'aria con la combustione delle sostanze dannose soprattutto quelli orientali per cui non non riusciamo a sapere bene cosa c'è dentro la carta aromatica di eritrea ha la sua certificazione di laboratorio e che dice adesso ve la leggo si dichiara che i listelli deodoranti denominati carta aromatica di eritrea sono da considerarsi attossice che il livello di esalazioni nocive prodotte dalla loro combustione da considerarsi privo di significatività quindi sono da bruciare ma sono completamente attossice adesso ve li faccio vedere perché vi faccio vedere come si usano non sono come un incenso che brucia per tanto tempo ecco questi sono i libretti sono dei librettini vedere quale mancano due con questi listellini dentro di carta che si strappa un listello si piega a fisarmonica in questo modo ecco qua poi bisogna prendere un un piattino qualcosa che non dia problemi anche se ci bruciate dentro qualcosa si accende un angolino ma proprio piccolo così e poi brucia e fa questo fumo brucia abbastanza in fretta ma il fumo il profumo perché non da non fa tanto fumo fa poco fumo è molto resistente molto buono quindi bruciatelo poco perché sennò brucia veramente molto in fretta fa questo piccolo fumo brucia in pochi secondi e poi profuma tutta la casa ha un profumo di resine un po orientale adesso ne hanno fatto una versione che io non ho in questo momento blu che ha un profumo un pochino diverso è buono e dura veramente tantissimo tempo non è economico questo questo librettino che sono metto un attimo da parte se no continuiamo avere il fumo davanti ok non è tanto economico però dura veramente tanto quindi qui c'è scritto c'è spiegato come si accende spiegato cosa c'è con resine e balsami provenienti dall'eritrea dalla somaglia il fumo che essa svolge è un efficace antisettico e un deodorante di forte persistenza quindi è un antisettico in questo momento ci sta anche bene e quindi carta aromatica di eritrea la potete trovare si trova su amazon si trova su ebay si trova in un sacco di posti vi lascio il link di amazon qui sotto e provatela perché è veramente buona e profuma la casa in un modo meraviglioso ho detto che non è tanto economica ma un librettino così costerà 4-5 euro ma dura mesi ok questa è un'idea poi invece vi faccio vedere lasciamole qua così magari si vedono poi vi faccio vedere invece un'altra idea che ho scoperto molto recentemente che è questa il palo santo che è un incenso naturale biologico sono paletti in legno così proprio è legno che profuma meravigliosamente questo legno io ho preso questa versione speciale relax io ne ho viste tre versioni una quella classica diciamo poi c'è questa e poi ce n'era ancora un'altra questa qui è quella che anche questa è abbastanza caro però dura perché guardate questo è un paletto e io già così ci avevo già profumato la casa quindi adesso poi vi faccio vedere in questa confezione ce ne sono 5 non mi ricordo quanto l'ha pagata su 15 euro 15-16 euro vi lascio anche lì il link di amazon qui sotto perché l'ho presa su amazon e è veramente profumato da un profumo meraviglioso qui dice l'incenso naturale palo santo è noto fin dall'antichità per le sue numerose proprietà benefiche il suo aroma ideale per rilassarsi e recuperare energie positive ne abbiamo bisogno io ne ho sacco bisogno soprattutto perché sono chiusa in casa con un adolescente maschio ve lo dico vi dico solo questo relegato in casa quindi non voglio aggiungere altro dicevo il suo aroma è ideale per rilassarsi e recuperare energie positive dopo una giornata di lavoro accompagna sedute di meditazione yoga o lettura di un buon libro l'aroma caratteristico tocca corde emotive profonde migliora la qualità del sonno e rende magica l'atmosfera nei rituali degli sciamani sudamericani era uno strumento spirituale per comunicare con gli dei e medicamento dalle infinite proprietà curative quindi anche questo è completamente naturale perché è proprio un legnetto che viene semplicemente tagliato in questo in questo modo anche questo si brucia in questo modo si accende ecco qua e poi si spegne ed ecco qui che c'è il fumo anche questo basta poco dura tantissimo perché fra poco poi si spegnerà ma il fumo il profumo è delicato ma persistente in casa quindi comunque non dà assolutamente fastidio è naturale e dura tanto anche questo sembra sembra che abbia un costo elevato ma in realtà dura tantissimo quindi altra idea terza idea questa volta non c'è niente da bruciare questi li lascio sempre qua allora servono un po' d'acqua io adesso vabbè non sono sotto il rubinetto quindi ho preso questa ciotolina un dischetto di cotone che può essere sia il dischetto di cotone da strucco che può essere comunque riutilizzato più di una volta ma se volete essere 100 per cento eco io adesso non ce l'ho qua a disposizione ma un dischetto di cotone fatta all'uncinetto un dischetto in microfibra va bene di quelli sempre da struccare va bene lo usate per questo uso poi lo lavate ogni tanto in lavatrice tranquillamente allora come si fa qualsiasi tipo di dischetto adesso vi faccio vedere con questo ma vanno bene tutti anche di una stoffa di recupero che vi fate voi olio essenziale che preferite io adesso sto usando l'eucalipto che è molto disinfettante e balsamico e mi sembra che in questo momento col coronavirus sia l'ideale acqua sotto il rubinetto io vabbè adesso ho la ciotolina bagnate il cotone ok lo strizzate ma non troppo in modo che non goccioli ma che abbia una bella quantità di acqua dentro poi io adesso mi appoggio un attimo qui sulla plastica della carta aromatica ci versate alcune gocce di olio essenziale ok e poi lo mettete sul termosifone caldo dopo 7-8 minuti il profumo si spanderà dappertutto io adesso l'ho appoggiato sul termosifone perché è pieno di olio essenziale se no mi rimane tutte sulle mani comunque basta un dischettino un dischettino bagnato olio essenziale e lo si appoggia sul termosifone purtroppo l'unica cosa negativa è che quando non ci sono più i termosifoni non profuma non si può più fare questo tipo di di sistema non si può usare più questo tipo di sistema se avete qualcosa di caldo in casa su cui potete metterlo anche se non ci sono i termosifoni va benissimo se no bisogna lasciare questa questa idea all'inverno insomma direi che vi ho detto tutto quindi spero che queste tre idee vi possano ispirare vi possano piacere provateli perché sono veramente sono veramente buoni tutti e tre i modi e ci vediamo alla prossima ciao ciao